Ciao a tutti e benvenuti su GallioPlay, oggi siamo tornati finalmente su Batman Arkham Knight. Allora, avevo mollato la storia per dedicarmi al recupero dei ricercati, ecco, quindi ho fatto tutte le missioni secondarie praticamente. Le ho quasi fatte tutte, mi manca solo il pinguino che rimane bloccato secondo me perché ci sarà, penso io, un'interazione con Nightwing in questa parte di storia, quindi non mi sblocca la missione secondaria. E poi mi rimane il raccoglimento, diciamo, la raccolta di tutti i trofei dell'enigmista, quindi tutte le cose riguardanti l'enigmista. Ho già fatto tutte le singole missioni, come potete vedere, ecco qua. Ovviamente l'enigmista non è completato perché devo prima risolvere tutti i 243 enigmi per poi andarlo a sfidare, battere e mettere in prigione. E poi, come vedete, il pinguino che è bloccato. Per il resto ho fatto tutto, quindi io direi di andare avanti con la storia e devo andare a indagare sull'apparizione di Gordon ai Panessa Studio. Teori avevo lasciato Robin qua dentro io, se non mi sbaglio. Ops. Allora, dice Arnie. Non sarebbe mai stato all'altezza del mio incredibile lavoro su Geniton. Ok, direi che proviamo ad aprire. No. No, niente, mi fa ascoltare, quindi... Che è? Ogni volta che qualcuno si mette tra noi, o muore, o è un malito, o è un malito, o è un malito, o è un malito. Congelante. Rengono i nemici inermi, che probabilmente... Ah, un nuovo gadget! Addirittura! Buono, 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 buono. Ok, adesso mi... Sembra che il computer si possa utilizzare, no? Sì, ok. Cerchi qualcuno? Sì, tua sorella. Dovresti sapere che non ci sono posti sicuri. Il commissario era così ansioso di tradirti prima, quando era in gioco la vita di sua figlia. E ora ho il tuo Robin, l'uccellino in gabbia. Affascinante come le tue paure ti abbiano fatto imprigionare proprio il tuo alleato più stretto. Ora, quelle stesse paure ti obbligheranno a fare come ti dico. C'è un magazzino laggiù a Kingston. Vacci da solo. Preparati a togliere la maschera. O i tuoi amici moriranno. Uh. Ma io di solito giro da solo. Rinuncio? Ok, raggiungiamo... Oddio, ancora no? Hai chiudotimi in cella? Non era al sicuro. Perché ora lo è? Morirebbe perché Bruce? Come tutti noi. Ma tu l'hai lasciato senza dipende. Sento dargli neanche una scelta. Mi spiace Bruce, ma devi andare a salvarlo. A ogni costo. Se mi lasci, io ci vado. Se... Molly, dai. Oh. È il momento di decidere Batman. Consegnarsi a crane e farci ammazzare i bambi? Oppure portare in azione in questa città un nuovo dinamico di uomo? Allora. Ah, devo... Ah, beh, mi si è sbloccato il pinguino, eh. Quindi bastava... Ma va a cagare. Beh, vabbè, andiamo avanti con la storia. Consegnerò il povero passo. L'unico modo che ho per salvare Robin e G. G, riflettate in da vita sorda. Potrebbe trattarsi di una decisione senza ritorno. Eh, addirittura. Decisione senza ritorno. Ok. Cavoli, dopo aver sbloccato tutti questi potenziamenti, mi sembra un altro gioco... Batman. Cioè, è impressionante. Potenziato a bomba. Eh, 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 colpiamo un negozio di riguori. Ma... Devo andare sotto? Andiamo sotto. Ok. Cioè, invece di girare con la macchina... Sei impazzito? Bene, in questo punto mi si è interrotta la registrazione, perché il gioco bloccava. E quindi vi spiegherò, tramite gli screenshot che ho preso, quello che è successo. Allora, siamo entrati nella stanza. Tramite quegli schermi lo spaventapasseri ci ha mandato un messaggio. Ci ha detto di rimuovere tutti i gadget e di arrenderci a lui nella porta successiva, come potete vedere. Quella porta, in realtà, è un furgone che ci sta portando in giro. E, durante il viaggio, Alfred ci dice che qualcuno ci sta inseguendo. Intanto, dentro il furgone, veniamo inondati dal gas e Batman comincia ad avere uno dei suoi trip mentali. Questo trip lo riporta alla morte dei suoi genitori. E durante questa scena qua incomincia a, come dire, arriva un'invasione di Joker. E noi incominciamo a lottare contro una quarantina di Joker. Stile Matrix Reloaded, quando c'è Neo che combatte contro tanti agenti Smith. E dopo averli menati un po', finalmente Batman cede, diciamo, come se vincesse Joker. e ritorniamo comunque nel furgone. Il furgone continua a viaggiare, continua a viaggiare finché non si ferma all'Arkham Asylum. Quindi ritorniamo all'inizio. E lì c'è lo spaventapasseri che ci aspetta. E se avete visto il primo Batman, appunto Arkham Asylum, si vede la scena dove Batman porta Joker. Invece lì, il contrario, è lo spaventapasseri che porta Batman. Lo porta in una stanza dove c'è Robin e Gordon. E lì costringe Gordon a rimuovergli la maschera. E tutti vedono che Batman è Wayne. È il nostro caro Bruce Wayne. A questo punto viene iniettato dell'altro veleno, dello spaventapasseri dentro il corpo di Wayne. E lui comincia ad avere un altro trip. Però stavolta il trip è talmente forte che noi non siamo più Batman, ma siamo Joker. Usiamo la sua macchina personalizzata e incominciamo a sparare a destra e a sinistra finché non distruggiamo tutti. Poi parte una specie di FPS con Joker, dove noi spariamo a tutti i criminali. Il pinguino, due facce, l'enigmista, un po' a tutti. Incominciamo a sparare a destra e a sinistra ed ammazzare tutti così, senza senso, senza logica. E una volta ammazzati tutti entriamo in un'altra stanza più strana, diciamo così. Uscito anche da questa stanza siamo di nuovo dallo spaventapasseri che ci inietterà un'altra dose. E quindi ritorneremo in questa stanza qua. Ecco qui che la possiamo vedere. E stavolta giriamo proprio in prima persona come proprio un vero FPS. Prima era in terza persona, adesso qui in prima. e giriamo, spariamo un po' a destra, un po' a sinistra, a casaccio, perché comunque i corridoi si aprono e si chiudono, oppure ci sono stanze così. E niente, dopo un po' arriveremo in una stanza dove ci sono le statue di Batman e ne appaiono sempre, sempre di più. Prima una, poi due, poi quattro, poi otto, poi venti, poi non so quante. E alla fine l'ultima statua è Batman che ci tirerà un bel pugno e ci stenderà. Ma noi torneremo in... sempre in piedi, sempre con le fattezze di Joker e arriveremo in una zona dove ci sono le celle e... che richiameremo una cella e da questa cella uscirà Batman. Qui l'immagine è bruttissima perché non sono riuscito a prenderla bene. Qui riprenderemo il controllo di Batman perché diciamo Batman supererà diciamo la paura che ha dentro. E quindi torneremo ad essere Batman e intrappoleremo Joker nella cella. Quindi, calcio Joker, vola dentro la cella, la richiudiamo, ovviamente lui ci supplica come da buon cattivo e noi ritorniamo, diciamo, ad essere il Batman buono. L'occhio da verde lentamente torna al suo colore originale e la scena si è risposta di nuovo con Batman legato con davanti lo spaventapasseri e comunque il veleno che gli ha iniettato non fa più effetto. Arriva il nostro caro amico Cappuccio Rosso che libra Batman e ci permette di sconfiggere lo spaventapasseri e gli inietteremo il suo veleno a lui stesso e incomincerà ad avere lui le visioni e ad avere paura di noi. Vedrà un Batman ultra mega incazzato con tutti i pipestrelli attorno e ovviamente si cagherà addosso dalla paura. E... E praticamente è finito qua. Spaventapasseri cubici urlare Batman anzi Gordo gli tira una saccagnata in faccia lo stende sviene Batman lo prende e lo riporta alla centrale dove lo mettono in prigione. Ora comunque tutti sanno la sua identità infatti qua il poliziotto gli dirà ah quindi Bruce Wayne io ti chiamerò comunque Batman se non ti dispiace. No, non mi dispiace. Una volta portato dentro Batman dice ad Alfred che non è ancora finita e continuerà a catturare i ricercati a fare quello che fa e il gioco riprende da lì. Fine! Ok, questo era il finale di Batman Arkham Knight mi dispiace solo che sia stato io a dovervelo comunque raccontare e narrare con delle immagini e non tramite il video finale perché comunque è stato molto bello. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui vi saluto e come al solito mettete un like commentate iscrivetevi fate quello che vi pare e non ci vediamo ad una nuova serie ma ci vedremo ai DLC di Batman perché ce li ho tutti e ovviamente li porterò quindi ci vediamo al prossimo DLC Ciao!